Oggi un minestrone facile e veloce cotto in pentola a pressione. Dopo aver pulito e lavato accuratamente tutte le verdure necessarie, asciugatele e fatele a dadini piccolini. Spezzettate poi allo stesso modo anche la pancetta tesa. A questo punto mettete a rosolare il sedano, la carota e la pancetta con un filo di olio all'interno della pentola a pressione. Aggiungete ora il resto delle verdure, versatevi dentro l'acqua necessaria e aggiustate di sale. Chiudete con il coperchio, abbassate la valvolina e quando inizierà a sibilare forte, abbassate la fiamma e lasciate cuoce per circa 10-12 minuti. Trascorso questo tempo, prima di aprire, alzate la valvolina lasciando uscire fuori tutto il vapore. Aggiungete al vostro minestrone un filo di olio extravergine di oliva crudo, dei crostini di pane sassato e del pecorino romano grattugiato. E ora che gioco è fatto, l'appetito, via mangiando!